Ragazzi devo dirvi una cosa, prima di farvi vedere il video che ho fatto su Sintesia devo fare una premessa. Questo video che state per vedere dura molto di più rispetto agli altri video che ho fatto sul canale. Se avete letto il titolo del video avete già intuito che questo video avrà a che fare con Microsoft Office. Poi se vi siete persi, gli altri due video che ho fatto con Sintesia ve li metto in descrizione o nei commenti. Adesso vi lascio al video che ho fatto con Sintesia ok? Buona visione! Grazie a tutti! 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 a tutti! Grazie a tutti! a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! a tutti! Grazie 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 a tutti!